Dopo sette trimestri consecutivi di crescita il livello della produzione industriale abruzzese è tornato nuovamente sul sentiero della quasi stagnazione con un percorso di progressivo rallentamento che si è avviato sin dalla seconda metà del 2010. Nel complesso del 2011 la produzione manufatturiera in Abruzzo è apparsa in evidente decelerazione 5% rispetto all'anno precedente in cui erano maturate aspettative forse eccessivamente ottimistiche sulle possibilità di una pronta ripresa. E quanto emerge dai dati sulla produzione industriale in Abruzzo relativi al quarto trimestre 2011 presentati questa mattina all'Aquila in Consiglio regionale dal Cresa? Il Presidente Lorenzo Santilli. Così come lei ha appena letto l'introduzione alla congiuntura, quello che non ci si aspettava in realtà, o meglio ci si aspettava perché l'andamento dell'anno aveva già dato questo tipo di segnali è ripreso una stagnazione, siamo di nuovo in una stagnazione come economia complessiva abruzzese. Il manifatturiero, la nostra industria manifatturiera oggi vive anche un lato che secondo me è il peggiore rispetto ai dati che è quello di una discesa dell'ottimismo che ormai crea quasi una sorta di rassegnazione soprattutto per quel che riguarda le piccole imprese le quali stentano ancora di più rispetto al passato.